Intanto ringrazio il Presidente per l'opportunità che mi ha dato perché non è semplice magari esonerare un allenatore e puntare forte sull'allenatore della primavera quindi sicuramente per me è una grande responsabilità e grande entusiasmo subito dal primo giorno, dal primo allenamento che doveva essere appunto come diceva poco anzi il direttore da traghettatore da cercare di aspettare il sostituto e poi materialmente durante la settimana si è trasformato fino alla partita di Crotone ad un allenatore in toto e co-ufficiale. Devo dirti che il Presidente avevamo parlato molto in settimana e puntava forte su di me quindi per me era importante dargli una mano sotto l'aspetto del risultato che era importante a far sì che la squadra potesse ripartire. Poi chiaramente tutti ospichiamo sempre a migliorarci, ad avere una possibilità, un'opportunità e devo dirti che su questo sono molto felice, molto soddisfatto e molto contento per aver avuto questa opportunità e cercherò di dare il massimo affinché comunque il Trapani possa raggiungere gli obiettivi che la società e il Presidente desiderano. Ho trovato una squadra costruita per fare chiaramente molto bene e quando vi è un cambio d'allenatore trovi sempre una squadra un attimino disorientata, un attimino preoccupata e quindi si è lavorato molto nei primi giorni, nella prima settimana, prima di Crotone, sul morale, su cercare di ridare serenità a un gruppo che chiaramente ha grande qualità. Il fatto di aver frequentato spogliatoi importanti, gruppi importanti, categori importanti sicuramente è servito ad arricchire il bagaglio mio da allenatore, chiaramente da calciatore lo vivevo in determinato modo, ma da allenatore sto mettendo anche a frutto quelli che erano i miei passati da calciatore perché so cosa si vive da quel lato e quindi adesso che sono dalla parte diametralmente opposta mi rendo conto di quello che probabilmente i calciatori hanno bisogno, necessitano e cosa bisogna invece vietare o migliorare su alcuni atteggiamenti sia tecnici tattici che anche a livello di vita privata. La gavetta è importante penso in tutti i settori, lo è stato da calciatore per me perché mi ha formato, lo è stato da allenatore già aver allenato anche i grandi in serie D, in eccellenza e quindi sicuramente arricchito il mio bagaglio ma chiaramente alla fine non si finisce mai di migliorare, non si finisce mai di arricchirsi e quindi si è sempre in discussione, quindi il passato si conta fino a un certo punto però poi bisogna guardare sempre il presente e che in questo momento per noi è la trasferta di Taranto, abbiamo già accantonato la prestazione alla vittoria di Crotone perché bisogna guardare sempre avanti e sappiamo che domani sarà già il presente e il futuro immediato e quindi siamo già concentratissimi su questo. Grazie a tutti.